adesso vi presento Donatello questo è il mezzo è un volkswagen t4 il vecchio proprietario gli ha messo anche il canale a led da bomber 7 posti perché questo è il modello multivan ora io adesso ho già smontato due sedili qua c'erano altri due sedili girati verso l'indietro sono gli altri tre sedili che tramite quella leva poi vi farò vedere si tirano avanti si stendono dietro in pratica questi vanno in avanti dietro c'è quest'altro pezzo dove c'è un materasso sopra che ora è provvisorio il politirolo ma li ha fatti fare nuovi quindi si stende tutto e diventa un megaletto matrimoniale che arriva tipo più o meno fino a qui qua ci sono degli allestimenti di sedi diciamo c'è il tavolino che uno poteva aprirlo e con l'altro sedile che era qui creare una zona aperitivo cena chiacchiere così tanto per vedere le base che ha sta cosa le casse e gli porta bicchieri una presa accende sigari lì una qui e un'altra dietro nel bauro e là dietro qua ci sono i sedili davanti che ahimè non sono reclinabili credo che solo nei modelli dopo questo sedile qua forse anche quello sotto avevano un disco e si poteva girare all'indietro questi invece sono fissi girati in avanti abbastanza bene già tenuto su le sue copertine perché questo sedile qua è abbastanza sgarruppato essendo quello che sali e scendi sempre quindi è un po più rovinato degli altri altre cose che si sarà da rivedere il vecchio proprietario qua aveva delle barre di ferro per tenere strette delle bici dentro non ho capito bene quindi qui dovrò vedere come sistemare come rimetterlo un po' a posto qua c'è una luce a led che qui sembra scrauso ma di notte va benissimo ciao 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 ciao